Un saluto dalla redazione del Tg della mobilità. Due le manifestazioni organizzate oggi pomeriggio in città dal movimento Non Una Di Meno in occasione dell'8 marzo, giornata internazionale per i diritti delle donne. La prima si svolgerà a partire dalle 16.30 in Piazza della Repubblica, sono attese 8.000 persone. L'altra invece a partire dalle 18 in Piazza Madonna di Loreto, nei pressi di Piazza Venezia. Per quel che riguarda la viabilità saranno possibili chiusure al traffico, deviazioni o limitazioni per i tram delle linee 5 e 14 e per altre 26 linee di bus. L'elenco completo è consultabile sul sito romamobilità.it